l'appunto fa è nei metri 24, tutto il mio insieme è nelle beni e in gioco l'�e quindi si può essere sull'accio il nostro portale è stata una buonissima per fare un attimo ed è stato prima di vivere la nostra app sono meno il più successo mi ricorda poi perchè ho fatto un video e io mi ricordo ad alcune alla nostra scopo questo è un'altra cosa per me e io ho ricordato queste cose per il tempo e ho fatto un'identica orazione per il winter, per il winter per il winter, per il winter per il winter per il summer, per il winter per il winter per il winter e io credo che i winter sono molto, che mi sono felice per il winter ed è molto bene per me, non c'è anche le stesse per il winter per i winter non ci sono le stesse ancora judgements or thoughts about this still but today I think I can't say finally after many days it's a beautiful and that's what it is this is the fact that it's World of Warp again as well as we're talking during this period we're going to have to see the theory for David and I'll be back to the level of the world so his days are so concerned the first thing that they have in the minority the first day in this call the third day the third day the third day it's beautiful beautiful sunshine yes in fact what the beautiful sunshine here now finally here behind me and however yes we are until now considering the video we are behind in one for another for another I think five hours in some minutes no sorry for most five hours in comparison 4 hours and 40 in comparison in comparison in comparison in comparison in comparison completely different change of hours in Italy in comparison completely different well well yes in comparison one year and no in comparison two years in comparison in comparison in comparison so they know this one general fact for me is this one is this one is in comparison and finally the is this one is this one is is the 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 one is la gente non è così la gente non è così non è così è così che non è così ho fatto un'escalo, non è così devo dire che ci sono Asi, tomorrow, I suppose, if I don't die, in fact me a while I don't know what will happen, we'll see. I don't know. 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 I don't know.